In occasione del Giubileo 2025 si è aperta a Roma la grande mostra dedicata ai papi e ai santi marchigiani. Ospitata nelle sale dell'Armeria Superiore a Castel Sant'Angelo, l'esposizione, ricca di materiali, presenta opere inedite o poco note, documenti e testimonianze, molti provenienti dal territorio marchigiano, a testimoniare il legame tra la città eterna dei papi e il suo patrimonio storico, artistico e culturale e le marche. La mostra è stata visitata in anteprima dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme con il Ministro Francesco Lollobrigida, i sottosegretari Lucia Albano e Marcello Gemmato, la senatrice Elea Leonardi e l'Onorevole Giorgia Latini. È una mostra di grande valore e soprattutto una grande opportunità. La nostra Regione delle Marche è una regione molto vicina a Roma, ha una storia di fatto contigua, la storia dei nostri papi, di tanti santi, che hanno lasciato un segno indelebile dal punto di vista artistico, dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista architettonico, le cattedrali, le chiese e tante altre realtà che raccontano di una storia millenaria. È bellissimo oggi qui in una location straordinaria, in un periodo che prelude all'apertura dell'anno giubilare, mostrare le marche e mostrarle a tutti i pellegrini e i turisti che visitano Roma. È un'opportunità per attrarre verso la nostra regione, per far conoscere le nostre bellezze e la nostra storia straordinaria. Curata da Marco Pizzo e da Maria Cristina Bettini, l'esposizione è promossa dalla Regione Marche, dall'ATIM, con la collaborazione della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e dell'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo, con il patrocinio di Giubileo 2025 e Conferenza Episcopale Marchigiana. Questa mostra ha tentato di far vedere come un territorio si esprime attraverso alcuni suoi cittadini illustri, in questo caso i papi e i santi. La mostra si articola in tre sezioni, cioè i papi delle Marche, i santi delle Maltre e poi una serie di percorsi. Ma la caratteristica è quella proprio di far vedere come una serie di opere esistenti in piccole città, in centri, in museo di Ocesani, eccetera, raccontano la spiritualità e la cultura di un territorio. Quindi non si vuole limitare a un percorso biografico dei papi o dei santi, ma invece cercare di far vedere come è possibile far affiorare le connotazioni specifiche di un territorio attraverso i documenti e le opere. È interessante che in questa mostra si dà importanza anche a piccole cose, anche a quei segni del quotidiano che tratteggiano il nostro vivere e mostra soprattutto quanto legame c'è tra Roma e le Marche. La mostra Papi e Santi Marchigiani a Castel Sant'Angelo, aperta dal 3 ottobre 2024, sarà visitabile fino al 2 marzo 2025.